Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Virtus Franca Villa. Fra operazioni in chiusura, possibili uscite, plus valenze e colpi sfumati, partiamo proprio da quest'ultimo aspetto, con Alessio Di Massimo che si allontana sempre più da un potenziale futuro in biancazzurro. L'attaccante ex Catanzaro dovrebbe raggiungere prezioso l'Ancona, società che stava contendendosi il cartellino del calciatore proprio con la Virtus, che salvo straordinari capovolgimenti di fronte, sarà costretta a virare altrove. L'attacco però non sembra essere la priorità del tandem fra chiò l'Antonazzo, che nelle prossime ore chiuderanno il secondo colpo in entrata di una sessione di mercato che in teoria non è nemmeno ufficialmente ancora stata aperta. Il promesso sposo biancazzurro è il giovane Daniele Solcia, difensore di proprietà dell'Atalanta, che nel corso della passata stagione ha raccolto 18 presenze in Serie C con addosso la maglia del Seregno. L'Atalanta cederà in prestito al Villa il gioiellino classe 2001, che in rosa prenderà il posto di Gianfreda, approdato in terra imperiale sotto esplicita richiesta di Taurino e cui futuro potrebbe vederlo protagonista nel girone H di Serie D assieme a Francesco Puntoriere, altro biancazzurro in uscita dalla Virtus. Sul piede d'addio anche il 19enne Andrea Feltrin, reduce da un'annata in cui ha forse giocato meno di quanto si aspettasse, una sola presenza in campionato ed un'altra in Coppa Italia di categoria, per un totale di appena 50 minuti raccolti in stagione. Resta inoltre aperto il mercato di Nobile, su cui non ci sarebbe più solo il Foggia, ma ora anche il Perugia. Sirene accese infine anche per Gabriele Ingrosso, su cui è piombato il Pordenone, ma per il quale la Virtus non sarà disposta a fare sconti.